Al basso Federico Amorosi, alla chitarra Bruno Beritasi, un applauso al nostro Fonico che ormai è il quinto demonia Giuseppe Ranieri, è una persona che non poteva mancare qui questa sera, ormai è un nostro caro amico che ci portiamo a prezzo da tanti anni, lui ha un nome che si chiama Pasqualino ed è qui lui, se non casca eccolo, un applauso, grazie, Grazie